Dopo i due concerti in diretta streaming sulla pagina Facebook del Liceo Gatto del 28 aprile del 19 maggio, sarà possibile ascoltare gli studenti e le studentesse del Liceo Musicale sul canale 636 del Digitale Terrestre di Cilento Channel. L'evento andrà in onda domenica 6 giugno alle ore 21 circa dopo il TG Edizione della Sera. L'intero concerto è stato registrato nei locali del Liceo. Avrà come protagonisti l'ensemble di strumenti a fiato del triennio, l'ensemble vocale del triennio, i gruppi da camera del bienio, i percussionisti, il pianoforte, la fisarmonica.